Musica Bene, salve e buonasera a tutti nella giornata dedicata ai non fan per all gli altri indici macroeconomici importanti che hanno riguardato in particolare il settore occupazionale americano le borse europee hanno chiuso in deciso rialzo per quanto riguarda i DAX chiude a più 2,79% IBEX a 3,73% CAC di Parigi a 2,49% Fuzzi Londra che chiude a più 1,34% e Piazza Affari che chiude con un'ottima performance esattamente a 2,83% come dicevo prima oggi è stata la volta dei dati relativi al settore occupazionale americano ma si è partita già alle ore 11 con il tasso di soccupazione dell'Eurozona che nel mese di maggio ha raggiunto il 7,4% il leggero rialzo rispetto al 7,3% di aprile gli analisti aspettavano un aumento maggiore al 7,7% negli Stati Uniti invece sono stati creati 4,8 milioni di posti di lavoro a giugno secondo i dati diffusi al Dipartimento del Lavoro americano le buste paga nei settori non agricoli le cosiddette non-famperol sono aumentate di 4,8 milioni di unità accelerando il recupero di maggio pari a 2,7 milioni di posti il consensus indicava un aumento minore pari a più 3 milioni di unità negli Stati Uniti invece il tasso di soccupazione si è attestato a giugno all'11,1% mostrando un calo dal 13,3% di maggio e proseguendo la sua discesa dal picco del 14,7% toccato ad aprile a causa delle misure di confinamento legate al Covid il calo della disoccupazione è il migliore del previsto degli analisti infatti avevano stimato una disoccupazione del 12,3% la bilancia commerciale degli Stati Uniti peggiore evidenziando invece a maggio un deficit pari a 54,6 miliardi di dollari contro i meno 49,8 miliardi del mese precedente gli analisti si aspettavano un deficit commerciale pari a 53 miliardi si ricorda che gli Stati Uniti prima economia mondiale ha in corso una battaglia commerciale con la Cina al colpi di dazi e tariffe bene ora andiamo a vedere invece domani che cosa succede per quanto riguarda venerdì 3 luglio alle 3.30 stanotte dall'Australia abbiamo le vendite al dettaglio del mese di maggio alle 10.30 dalla Gran Bretagna doppio appuntamento con l'indice PMI composito e indice dei direttori degli acquisiti e settore dei servizi del mese di giugno bene andiamo ad analizzare invece gli scenari più importanti finalmente dopo uno stazionamento oggi all'interno della zona rosa ovvero a 1.13 1.12 e 40 a chiusura della giornata ci troviamo con un altro shadow proprio in questa zona ovviamente questo è un grafico settimanale però aspettiamo la sessione domani se viene confermato questa movimentazione abbiamo per la quinta settimana di fila una falsa rottura proprio di 1.13 ciò sta a significare che praticamente 1.13 è un macigno molto duro da superare ed si aspetta quindi a questo punto una possibilità cioè viene considerata ancora quindi con una chiusura al di sotto 1.12 e 40 nonostante che abbiamo una candela in side dal momento rispetto alle penultime due candele settimanali però al di sotto 11.60 ci potrebbe stare delle ottime indicazioni ribassiste per quanto riguarda invece dollaro yen oggi niente da fare per il dollaro yen avevamo messo in cantiere la situazione sul dollaro yen come abbiamo analizzato stamane durante la diretta live ma al momento resta ancora imprigionato all'interno di questa zona ovviamente al di sotto 106.60 andrà a liberarsi di questa zona che da cui potrebbe partire una congestione sotto 106.60 potrebbero partire altre movimentazioni al ribasso stellina dollaro e cable e cable fondamentalmente abbiamo una situazione dove al momento molto interessante per quanto riguarda passiamo prima al si è formato proprio adesso stamattina oggi si sta formando una barra di esaurimento domani potrebbe essere la volta buona per un ritorno di nuovo alle vendite dopo che le quotazioni hanno proprio in ottica giornaliera se andiamo ad analizzare si sono fermate su un'area molto interessante ovvero 61.8 di questo movimento e il 38.2 di un movimento più lungo più largo quindi una situazione che domani potremmo inserire qualche movimentazione sell un'altra movimentazione al di sotto la chiusura di oggi quindi ci potrebbe stare un movimento ribassista questa è la situazione sul 4 ore quindi un rientro dopo aver preso profitto un rientro al di sotto il pivò mensile questa situazione potrebbe appunto come abbiamo analizzato sul giornaliero potrebbe dare atto a qualche partenza ripartenza sell già a partire nella giornata di domani per quanto riguarda invece altri operazioni altri setup di ingresso al mercato stamattina avevamo visto anche un possibile movimento di ordine euro sterline un possibile sell niente da fare si è appoggiato su questa zona di rimbalzo una zona micro supporto vedete più volte testato sia come supporto o come resistenza la rottura della trendline però non c'è stato il trigger point che mi ha dato l'ok per poter entrare a mercato in vendita stessa situazione anche per quanto riguarda euro dollaro australiano che resta ancora all'interno di una zona una zona di congestione anche se siamo al di sotto questa zona quindi nel lato inferiore la rottura di questo minimo potrebbe catapultare potrebbe catapultare appunto il cross al test di questa zona di rimbalzo quindi esattamente a 1.60 e 85 questa è la situazione per quanto riguarda euro dollaro australiano poi sterline a dollaro australiano sterline a dollaro zelanda sempre siamo al test di una zona molto importante per ripartenze long eccola qui quindi aspettiamoci qualche movimento long nelle prossime settimane importante manteniamo l'operazione buy a mercato anche per quanto riguarda stellina dollaro della nuova stellina dollaro della nuova zelanda eccoci qua vedete anche qua siamo in una zona di possibile ripartenza long quindi ci attendiamo qualche movimento realzista importante per quanto riguarda invece la situazione legata alle commodity gold andiamo a vedere un po' la situazione su gold anche qua si sta mantenendo all'interno di quest'area un breakout sopra 1785 412 potrebbe dare atto ad una movimentazione al rialzo siamo all'interno di un'onda 3 seguendo anche le dinamiche di Elliot onda 1 onda 2 onda 3 che sarebbe il 100 potremmo arrivare potremmo fare un bel po' di punti mentre invece per quanto riguarda l'oil attenzione sull'oil siamo ancora in una zona di studio una zona interessante di studi dobbiamo un attimo aspettare quello che succede siamo ancora domani dobbiamo vedere come chiude la candela settimanale se chiude al di sotto il 39,20 potremmo assistere alla quinta movimentazione settimanale di fila con un break in al di sopra il 39,20 quindi una falsa rottura al 39,20 questa è una zona 50,61,8 con Fibonacci tracciato dall'ultimo massimo quello del 5 gennaio e quello del minimo del 26 aprile da qua siamo in una zona dove nel caso di una rigaduta al di sotto il 36,50 potrebbe dare atto a movimenti importanti ribassissimi stessa situazione eccoci qua sul 4 ore quindi analisi anche multi time frame trend line perfetta testata diverse volte quindi confermata quindi entreremo al mercato al breakout di 38 dove abbiamo livello annuale 38,023 PV mensile 38,157 sotto questa zona potremmo avere ottimi spunti ribassisti bene per questa sera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo domani mattina con l'ultima diretta live della settimana alle ore 8.30 buona serata a tutti grazie mille per la vita grazie mille per la vita